e ciao a tutti ragazzi benvenuti qui in questo nuovo video bentornati qui su mv2 nuovo episodio sempre in compagnia della gentaglia di quartiere dove ormai sapete che in questo video andrete a vedere i migliori momenti le migliorazioni le parti più divertenti e strapolate da quella che è stata una serata di registrazione quindi signore io vi auguro buona visione e vi dico di passare sulla pagina instagram link in descrizione bannerino tattico che compare in sovraimpressione che vi dice qual è il nome del profilo da andare a seguire vi lascio all'azione e noi ci vediamo alla fine per i saluti finali tutti quanti dentro con prezzati mortali aspetta aspetta risporgerti ricupera la vita aspetta c'è morire pure solo se ti guardavano aspetta sa che come va di sfondamento voglio morire l'agri di tarpante questo si è sentita bene comunque è vero si zanchi zanchi porco tu zanchi potete zanchi zitto lo so zitto però zitto ora io ho il po te lo sei fatto scappare dio caro dai che forse ce la faccio manca un quarto d'ora manca ragazzi lo fa camperà la sua ciao chi è sborro tu i down buongiorno il fratello guarda quest'altro come cazzo sta giocao cazzo sei il guardiano del faro ma se io volessi fare uscire un video non posso mi aiutano il canale l'hai visto bra 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 ma da dove cazzo stava guardalo guardalo dietro i sacchetti della farina ma non ci posso stare io non ci posso stare di terzo ecco qua non puoi partire per quale no guarda la testa lo stava proprio aspettando stava aspettando che si girasse come la cazzo 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 montata solo come la cazzo come la cazzo come la cazzo calmi Impassibile Non ha fatto una piega Rimano ottime là Partite a dare Non l'hai tirato a qualcuno Zaghi che si è vendicato sta a riparare il condizionatorio Eh sì Mettaci sua C'è una pistolina che va bene Procellato BATARRIO Allora Sopra 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 Non so No 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 Attaccio 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 Ma vai cazzo sta andando Fammi Fuggi No Fammi segno Fammi segno Ah no Non ho visto C'è l'ultimo Non ho visto Ma è che la sconema di ammatt E' il lupo 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 E' un lupo Un lupo E' il lupo Non sapete arriva a tostare la bomba Guarda Guarda Dà un bacino! Dà un bacino, non ho più! Sborro sui dà un... C'è la punzana! No, no, sta sopra, sta sopra, sta sopra... Eh, ci stava... Il primo che ti ha sparato era... Manuele! Sì! Porca troia! Vabbè, hai rifatto gli angoli alle scale! Sì, l'ho rifatta! Porca troia! Per me io, per me io star viaggiavo! Mori, fame! Eh, quanti cazzo siete? Porca puttana, mi hai fatto cagare in mano! Che cazzo! Per non far cascare il bicchiere dalla scrivania! Mi sono fermato! Trashy Squashy! C'ha una velocità di esecuzione clamorosa! Frutto... di bestemmia! Ok! Ok! Ma è ancora rito! Finno parla con il megafono, comunque è clamoroso! C'è un megafono incorporato nei polmoni! No, no! È vero! Ma è fuori! Un megafono! Ma perché? Mutatelo! C'è un motivo che sta parlando! Ma la scavare è nata! No! Non ti è il cuore! C'è! Ma che risata è? Ma che risata è? Ma che risata è? Ma che risata è? Bastardi, stava a beve! Ma perchè sono qui? C*****! Ma il c***o! Quella roba! Ultrattico, corri di dauno... ...che si piega, ma... ...ma due quell'immiglia! Si che riglie! Ma il suo reggio sta parlando di tre sparare! No ma vabbè non mi parli! Che bello è che una... ... che intraiata come una m*****a! Ma come c*****o è possibile? sta cosa è illegale aiuto ragazzo che cosa aia aiaiaia piano ma che si andiamo avanti ma stavamo con le armi vere ragazzi stavamo con le armi pure le kill tra due di canti il secondo vale ma che cazzo di proverbio è che cazzo di proverbio è fra i due di canti il secondo fa la terza ma che cazzo vuol dire sali da questa finestra di merda no no guarda zaghi sta sta a metà posto le fatture ma è una guerra vera? ma è una guerra vera? che cazzo è questo? ma siamo matti ma è clippato cazzo ma che siamo matti ma è clippato il personaggio ma è clippato il personaggio ma è clippato il personaggio aiaiaia se spawno il fermo non è colpa mia non è vero aiaia è culo eh sono problemi lì eh eeeh nooo ah lì queste finestre guarda che un panno mi ha toccato tu nooo eh sì avanti e dietro così a caso a 31 kg ma quando mai le ho fatte? sto a fa il punteggio del giorno al contrario Rizzaghi, vaffaculo Zaghi, devi morire zaghi Non hai capito ancora Nooo 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 Una volta che faccio 34 kill non arrivo sul podio Ma stiamo scherzando Ladies and gentlemen vado a concludere qui questo episodio Con la speranza che vi siate almeno un pochino Divertiti nel guardare le nostre Scorribande su mv2 Se così fosse stato vi invito a lasciare un like Un commento ed iscrivervi se non l'avete ancora Fatto per non perdervi i futuri video Probabilmente su mv2 Sicuramente i prossimi video che ci saranno Sul canale Io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video Sempre qui sul canale Ciao a tutti ragazzi